Da quando Liv Morgan ha perso il titolo di campionessa femminile di SmackDown, su di lei come stormi di rondini aleggiano un sacco di rumors, una cornucopia di voci di corridoio. Le più importanti sono connesse ad un suo futuro eventuale ingresso nel cerchio magico di alleati di Bray Wyatt. Sappiamo che in passato il web ha fantasticato su di lei come Sister Abigail. Lei e Alexa Bliss sono state costantemente associate a questo personaggio, ma al di là di un sogno onirico in un match nella palude, poi non si è concretizzato nulla. Tuttavia, il nuovo Bray Wyatt, quello che stiamo imparando a conoscere, è sostenuto da teorie secondo le quali avrà degli alleati. Forse gli animaletti dell'allegra casa delle lucciole che prendono vita, corpo e forma, oppure forse altri wrestler corrotti dal male. Per quanto riguarda Liv Morgan, si parla anche di una sua trasformazione più aggressiva dovuta agli infausti, influssi portati nella sua vita da Chucky, la bambola assassina. Un brand trasformato anche in telefilm con il quale Liv Morgan ha collaborato e potrebbe collaborare anche in futuro. Ora, non vi sto a tediare con tutto il resto, queste sono un po' le linee principali di pensiero su Liv Morgan, che in effetti, dopo Extreme Rules, qualche piccola modifica caratteriale la sta mostrando. E allora, tuffiamoci nell'ultima puntata di SmackDown per vedere se ci sono altri indizi di questa metamorfosi e soprattutto dove sembra collocarsi Liv Morgan nel futuro. Allora, innanzitutto, questo è l'ingresso. E l'atteggiamento è quello precedente. Una ragazza solare, sorridente e amichevole con i fan. Dal 5 saluta, li osserva con riconoscenza, ricambia il loro entusiasmo. Possiamo però notare, andando a spaccare il cappello in quattro, una proposta di trucco un po' più accentuata. Un rossetto forse un po' più carico, la lacrima e il trucco sugli occhi più visibile. Un costume più colorato. Ma non c'è niente di così distonante rispetto al prima. Anche perché la sua avversaria, Sonya Deville, storicamente veste in full black, quindi tutto nero. E avere Liv Morgan, anche lei, con il costume tutto nero, sarebbe stata una pessima scelta cromatica. Sapete, ve l'ho già detto in alcune live su Twitch, come l'abbinamento dei colori nel ring, a volte viene sottovalutato, ma in realtà aiuta anche molto lo spettatore a seguire le sfide. E per questo gli atleti, almeno quelli non connotati solo ed esclusivamente da uno o più colori, hanno di solito con sé una certa profondità di costumi tra i quali scegliere, quindi hanno un piccolo arsenale, non a caso viaggiano con un sacco di valigie. Allora, il match che si è disputato nel ring sembrava uno dei tanti, il solito, ma ad un certo punto Liv Morgan è diventata più aggressiva. E soprattutto, di fronte ai colpi di Sonya, si è messa a ridere. È successo in un paio di circostanze, come se apprezzasse, sadicamente, il dolore subito e fosse in grado di trasformarlo istantaneamente in rabbia aggressiva. Liv Morgan, dal punto di vista del volto, soprattutto quando truccata, è molto espressiva. E questi sorrisi un po' beffardi, un po' maligni, le riescono molto bene e creano grande pathos durante la battaglia. Sono stati dei piccoli punti di svolta, anche perché, a un certo punto, accumulando così tanta voglia di riscatto verso Sonya, è esplosa la travolta di colpi e la portata fuori dal ring, dove il match è terminato. Perché qui Liv Morgan, sì, che in pieno stile metamorfosi, è cambiata. Perdere la cintura, hanno detto i colleghi americani, ci ha dato una nuova Liv Morgan. E forse è vero, perché ha preso Sonya, l'ha buttata, l'ha lanciata contro le balaustre, poi la testa, come se fosse un tamburo, l'ha percussionata costantemente sui gradoni d'acciaio. Così facendo, non si è accorta, o ha ignorato il conto dell'arbitro, che è arrivato a 10 e quindi ha chiamato il count out. Liv Morgan si è disinteressata del match, non le interessava vincere, voleva punire una rivale che le aveva fatto dei torti. Ed eccolo qua, uno dei suoi sorrisi espressivi. Questa non è più, o lo è solo in parte, la Liv Morgan del passato. E non è finita, perché ha preso un sacco di sedie, le ha ributtate nel ring, ci ha costruito una piccola piramide, un piccolo mausoleo, e poi, boom, un superplex su Sonya, che cade su quella superficie. E poi le si avvicina, sempre con questo fare provocatorio, irridente, come a dire, non sono più l'allegra e passiva cameriera di un tempo, sono stata campionessa, se ora mi schiacci i piedi, hai a che fare con una wrestler che quel passato lo difende, perché vuole che torni ad essere il suo presente e il suo futuro. Allora, iniziamo dalle cose che mi piacciono di questa vicenda. Io spero che non abbia nulla a che fare con i rumor che girano, tra l'altro io spero che Bray Wyatt non abbia alleati, ma vabbè, è una mia sensazione, ma dicevo, si allinea a quello che le è successo. Ha perso il titolo con Ronda Rousey mostrando una certa maturità sportiva, atletica, mentale. Ora non bisogna retrocedere, al personaggio della simpatica perdente di prima. Liv Morgan ha un territorio da difendere, ha una reputazione che non può cedere così facilmente. Quindi ovunque si vada a parare con la linea narrativa è un bene che, come nel Monopoli, non si sia tornati al punto di partenza. In più, questa teorica possibile connotazione aggressiva che la fidanza teoricamente con le vicende di Bray Wyatt o con altre, beh, è una gran cassa pubblicitaria notevole. Tutti ora vogliono che il loro nome in qualche modo sia vicino a quello di Bray Wyatt perché è il più cliccato, è il più ricercato, è quello attorno al quale c'è più curiosità. Sul web, chiunque o quasi ha cercato di lasciare intendere che forse anche lui potrebbe entrare in quella vicenda. L'ha fatto, che ne so, Ryback, per dire, uno che non verrà mai coinvolto, o l'ha fatto anche Kerryon Cross. in alcune interviste ha detto, beh, sì, se dovessero chiedermi è una storia interessante, valuterei perché no, eccetera, eccetera. Quindi ci sono dei positive, un cambio di personaggio non ancora definitivo, ma che mostra una live diversa, modificata dagli eventi che ha vissuto, quindi molto bene, e poi questa associazione che comunque tiene a galla il suo nome. Cosa deve migliorare? Il trasmettere aggressività. Quando Liv Morgan parte, si avventa su Sonia, la riempie con una scarica di pugni, sono sempre troppo appoggiati. Dà costantemente l'idea, e ne parliamo da tempo, che Liv Morgan abbia quasi timore di fare del male all'avversaria. Ma se il suo personaggio ora è questa bomba ad orologeria, questo vulcano in eruzione che esplode in faccia a chi la provoca, deve cambiare questo modo, deve affondare un po' più i colpi, deve ridurre la paura. Prendiamo Ronda Rousey, avversaria che ha affrontato di recente. Quando Ronda Rousey colpisce, che piaccia o meno, i suoi colpi sono legit. Li accompagna con i movimenti del corpo, con la faccia, con l'aggressività, con l'espressione, con anche il mannerism fisico che aumenta lo slancio delle mosse o le enfasi dei pugni che arrivano. Liv Morgan lavora tanto, lo sappiamo sulla tecnica, l'abbiamo visto anche nelle dirette su Twitch, condivide sprazzi dei suoi training, quindi non è una che dorme tra due guanciali e se ne frega. Però questo piccolo difetto, che piccolo non lo è, se lo sta portando avanti da tanto, è effettivamente un po' blocca, un po' stringe la caviglia come una palla da carcerato a questa nuova proposta che sta mettendo nel ring. Ecco, io andrei proprio a cercare di metterci una pezza perché è importante. Ma ripeto, sono contento di questo cambiamento. non è una Liv Morgan che recrimina, che si piange addosso e che è uguale a quella di prima, quella che non aveva ancora vinto la valigetta del Money in the Bank. Dove si andrà a parare? Non lo so, ma già così mi sta bene. Voi cosa ne pensate di tutta questa vicenda? Beh, dita Roventi, aspetto le vostre opinioni qui sotto, nello spazio dai commenti.